Vai, sono bellissimi, sono tanti, sono tanti, fantastico. Dai, Amato, facciamo un gioco. Il gioco? Che gioco? Sì, proviamo a riconoscere i bingobini. Riconoscerli? Sì. Vai, ci sto, dimmene uno. E Skipper. Skipper, allora, lui? No. Lui? No. Dabbi un altro, Skipper al pari figli. Proviamo con Nino. Nino? Nino e lui? No. Lui laggiù? No, ma dai, Amato, neanche uno, eh? Eh, raga, non so, sembrano tutti uguali, sembrano, ma no. Eh, facciamo una cosa. Dammi uno facile, uno facile. Uno facile, Obelix. Obelix, Obelix, lui perché è più piccione? No. E lui? No. Ma sai chi è Obelix? No, 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 no. È lui, è molto diverso da tutti gli altri. È vero, ma è un colore diverso, perché? Eh, sì, perché lui è il nostro bullo. È il piccolo, quanto c'ha? Quanto c'ha? Certo mesi. No ragazzi, sette mesi, guardate che spettacolo. Comunque facciamo così. Ragazzi, vi aspettiamo a Zomarin perché potete conoscere, soprattutto riconoscere, i nostri amici pinguini. Quindi che dire, un saluto da Patrizia, dai nostri pinguini e da Zomarin, il parco più amato. Ciao ragazzi, ma sono bellissimi, sono bellissimi. Amo? Amo. Amo.